Però questo movimento veramente con la democrazia partecipata ha riportato il cittadino all'interno della politica, perché il cittadino c'è questa rivoluzione culturale che parla di questa intelligenza collettiva in cui ognuno può dare la propria disponibilità a seconda delle proprie esperienze, delle proprie competenze, della propria professionalità per migliorare il tutto ed è bellissimo e ha riportato il politico all'interno delle istituzioni. I politici si fanno chiamare cittadini, sembrerà una cosa banale, ma è per ribadire il fatto che sono come tutti noi e lavorano per noi, lavorano per questo. Lei si possiede sinistra, ha votato per partire sinistra? Io votavo il PD prima e adesso sono stata presa da questo entusiasmo per il Movimento 5 Stelle e sinceramente mi sembra un movimento concreto, coerente, che ha cercato i fatti e di mostrare le cose, non soltanto quelle parole. La cosa che mi pare di capire è che lei non sente il Movimento 5 Stelle come il movimento di Beppe Grillo e basta, cioè ha sentito qualcosa di diverso a Gerla. Sì, ha sentito qualcosa di diverso. Il Movimento 5 Stelle parla di due cose fondamentali, di cui Beppe Grillo è il portavoce. Prima di tutto bisogna parlare di solidarietà, per uscire da questa crisi bisogna parlare di solidarietà e poi sono le idee che ci faranno uscire da questa crisi. Il razzito di cittadinanza che loro propongono è un'idea di solidarietà. Non possiamo lasciare altri milioni di persone povere a morire in fame. Lo Stato ci deve aiutare. Oggi i cittadini sentono uno Stato che è contro, che non è fianco a loro. I giovani se ne vanno, se ne vanno, non c'è meritocrazia. In questo Paese non c'è meritocrazia. Vogliamo fare qualche cosa? Perché i giovani pensino che riusciranno a ottenere qualcosa nella vita grazie a quello che fanno, grazie a quello che sono, grazie ai loro valori, non grazie al potente di turno che vi darà una raccomandazione. Vogliamo dare loro questo segnale. Perché io ho dei figli, io lo faccio per i miei figli, ormai io il mio lavoro ce l'ho. Quanti anni hanno i suoi figli? Io ho dei figli, uno di sei, uno di otto anni, sono stata precaria fino all'anno scorso, sono stata chiaramente stabilizzata. L'ho fatto per dimostrargli che alla fine, impegnandosi fino alla fine, rischiando di essere licenziato il giorno prima, che però lottando fino alla fine ci si può riuscire. E vorrei che loro non se ne andassero, vorrei che fossero liberi di non andarsene, poi se se ne vogliono andare o no, no. Però tutti questi giovani che se ne vanno è una delusione, è un peccato, se ne andavano i nostri nonni, non se ne andavano i nostri figli. Grazie.